Oltre a mille visitatori nella sede espositive dedicate al maestro Alberto Burri a Città di Castello. Da sabato 22 a martedì 25 aprile, complice il ponte e le manifestazioni locali, sono stati ben 1033 i visitatori che hanno deciso di entrare a Palazzo Albizzini e ai ex seccatori del tabacco. Non solo Burri, ma anche Vedova e Nietzsche e gli incantevoli scatti fotografici di Aurelio Amendola hanno attirato molti turisti che non hanno perso l'occasione di visitare la mostra temporanea che resterà aperta fino a fine giugno agli ex seccatori del tabacco dal titolo Aurelio Amendola, Burri, Vedova e Nietzsche, Azioni e Gesti. Visitatori per lo più italiani provenienti da ogni regione in gita nel territorio di Oralto Tevere. Sempre per quanto riguarda i dati del turismo sul lungo ponte, sono stati quasi 350 quelli che hanno varcato la soglia della Pinacoteca Comunale. Turisti italiani e famiglie per le viste guidate e i laboratori ispirati alla Valle dei Signorelli. Nelle quattro giornate di festa del lungo ponte del 25 aprile, il Museo Diocesano ha registrato un vero e proprio boom di presenze, oltre 200 accessi sia turisti italiani che stranieri. Diversi ingressi anche al Museo di Tela Umbra, 212 i visitatori per il Castello Bufalini di San Giustino, che nell'ambito dell'iniziativa ministeriale il 25 aprile era ad ingresso gratuito. A Dumbertide espluò per l'evento serale del Museo di Santa Croce dedicato a Perugino e Signorelli, con circa 80 spettatori e 30 ingressi di media dei giorni del ponte per oltre 100 persone. Infine, al Museo San Francesco di Montoni sono state circa 90 le persone per il laboratorio dedicato ai Signorelli e al Rinascimento.